Buongiorno bambine, buongiorno bambini, maestre e maestri, buongiorno vedo che siete tantissimi anche stamani. Allora io sono Chiara, di giunti in scuola e sono in compagnia di una illustratrice e autrice che oggi è qui con noi per raccontarci una storia bellissima. Ciao Isabella, buongiorno. Buongiorno. Allora Isabella è l'illustratrice e l'autrice di questo fantastico libro Il Girotondo del Carbonio, che vedete qui anche accanto a me un disegno fatto da Isabella, e è qui con noi per fare un laboratorio molto molto particolare e divertente perché l'11 febbraio, quindi tra pochissimi giorni, è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e quindi abbiamo pensato di chiamare con noi Isabella proprio per raccontarci questa storia fantastica, che è una storia che ci aiuterà a capire anche il cambiamento climatico. Allora io vi lascio con Isabella, sono qui insieme a lei comunque per qualunque cosa mi potete chiamare e non mi resta che dirvi buon divertimento e buon laboratorio e costruiamo insieme i carbonietti. Grazie, a dopo. Allora, ciao a tutti. Oggi facciamo un laboratorio creativo, dunque proviamo a fare qualcosa insieme. Io sono un'autrice, quindi scrivo e disegno, però mi trovo anche spesso a fare dei laboratori e questo di oggi è di costruzione di qualcosa. Ora seguitemi, fidatevi di me, anche se iniziamo così subito ad entrare nel vivo e voi avete dei materiali. Uno di questi è una pallina di polistirolo, la tempera nera e abbiamo anche il pennello per stenderla. Quindi per esigenze di tempo iniziamo subito così a colorare. Mettiamo la nostra tempera qua nel piattino o se volete anche prenderla direttamente dal tubetto, tanto dovremo andare ad usare il colore puro, quindi non diluito con acqua. Se no è difficile che prenda qua sul polistirolo e andiamo a stenderla così. Copriamo tutto per bene. Adesso io andrò un po' più veloce, ma poi dopo parlo, quindi voi nel frattempo potete finire di fare. Qua stendiamo tutto bene, mi raccomando, non bisogna esagerare con la quantità, se no si asciuga dopo domani. Quindi qua stendiamo bene il colore, dobbiamo farla tutta nera. Se non è uniforme, perché il polistirolo è un po' un materiale su cui va a scivolare la tempera, non vi preoccupate perché si può recuperare in un secondo momento. L'importante è che fra un po' un po' di minuti ce l'abbiamo asciutta. Poi la tempera è lavabile, quindi se vi macchiate le mani non vi preoccupate. Poi dopo si lava via tutto. Ok, io qui ho fatto. E abbiamo qua la nostra pallina, tutta bella colorata. Adesso appoggiamola in un posto dove non facciamo danni, che può essere su un foglio, e la lasciamo ad asciugare qua. E adesso possiamo parlare con un po' più di calma. Allora, questo laboratorio si chiama Laboratorio di Costruzione dei Carbonietti. Ma voi sapete chi sono i Carbonietti? Il mio libro si chiama Il Giro Tondo del Carbonio, quindi potete immaginare siano i personaggi del mio libro, e avreste ragione. Dunque, lo chiedo alla chat. Avete mai sentito parlare del Carbonio? Avete mai affrontato il Carbonio in classe? Rispondetemi pure. Io intanto andrò a vedere i commenti che mi arrivano. Potreste averlo affrontato, ad esempio, in scienze, oppure anche averlo sentito nella vita quotidiana. Spesso si parla di carboidrati, che sono tutte quelle cose molto buone, come possono essere la pasta, la pizza, e dal nome potrete intuire che si tratta sempre di Carbonio. Anche lì. Allora, vediamo qualcuno nei commenti. Qua dicono che è una classe che non l'ha ancora affrontato. Oh, qua ancora non l'hanno affrontato. Alcuni sì. Il Carbonio rientra in tantissime cose diverse, in tantissimi argomenti di scienze, ma anche di attualità. Allora, un po' di scuole hanno affrontato, altre no. Magari facendo anche la fotosintesi tra le prime cose, o come è composta l'aria. Anche lì rientra il Carbonio. Ok. Allora. Dalla chat posso capire che alcune scuole l'hanno già affrontato come argomento, altre scuole no. E noi adesso, anche per quelli che non l'hanno già affrontato, facciamo un piccolo passo indietro e partiamo ancora da prima. Allora, di cosa è fatta la materia? La materia è fatta di atomi. L'atomo è un po' come il mattoncino che compone tutta la nostra realtà. E di questi atomi ce ne sono di diversi tipi. I diversi tipi noi li chiamiamo elementi e uno di questi elementi è proprio il Carbonio. Pensate che è il quarto elemento più presente nell'intero universo, quindi ce n'è veramente tantissimo. E anche intorno a me tutto quello che vedo è fatto di Carbonio in parte. Non tutto quanto, però è molto molto diffuso. Io sono fatta in parte di Carbonio, voi siete fatti in parte di Carbonio, quindi è un po' ovunque. Adesso io vi presenterei i miei personaggi, perché i miei personaggi si chiamano Carbonietti proprio perché rappresentano vari tipi di Carbonio. Allora, lui, che spero vediate bene, è Carbonio di base, quindi è un singolo atomo di Carbonio. Ma se un singolo atomo di Carbonio veste due belle ali di ossigeno, qua, quindi un atomo di ossigeno e un altro atomo di ossigeno, si trasforma e, avendo due ali, inizia a volare, perché è diventato un gas, si è trasformato in anidride carbonica. L'anidride carbonica ha una storia lunghissima, che, se volete, vi posso far vedere anche attraverso i miei disegni. Allora, se la regia mi passa i disegni, perfetto. Allora, qua vediamo l'anidride carbonica su un pianeta Terra dove ancora non c'erano forme di vita, quindi c'erano solamente i vulcani e in aria volava l'anidride carbonica libera, l'unica giostra erano i vulcani. Pian piano, col passare del tempo, moltissimo tempo, iniziano a formarsi le prime forme di vita. Alcune di queste forme di vita iniziano a fare la fotosintesi, perché appaiono i cianubatteri. Come vedete, sono quelle creaturine verdi-azzurre che assorbono l'anidride carbonica e rilasciano le due ali di ossigeno nell'aria. E pian piano l'atmosfera si riempie di ossigeno, quindi il carbonio viene intrappolato all'interno delle forme di vita e inizia il suo giro, il suo ciclo del carbonio e l'aria si riempie di ossigeno. E quindi mano a mano, anche qua, milioni e milioni di anni, la vita si evolve e si trasforma, diventa molto più complessa. Iniziano ad esserci le piante, gli animali, ci sono i dinosauri, che poi ci sono stati fino a un certo punto. E quindi il ciclo del carbonio diventa, man mano che si evolve la vita, sempre più complesso anche lui. Inizia a girare per aria, dentro l'acqua, sulla terra, sotto la terra. E anche qua passano milioni e milioni di anni. Questo carbonio è molto giocherellone, ma dopo milioni di anni che uno gioca, si stanca e quindi alcune nitride carboniche decidono di andare a dormire. Lo vanno a fare sottoterra, così nessuno le può disturbare. E piano piano si trasformano in quelle che vedete qua, o in fondo, che sono gli idrocarburi, conosciuti anche come combustibili fossili, che adesso vi presento anche qua i pupazzetti. Abbiamo... ecco qua. Abbiamo petrolio, che è stato un gigantesco dinosauro. Poi abbiamo carbone, che è stata una lussureggiante foresta preistorica, carbone fossile, mi raccomando. E poi qua abbiamo anche il gas naturale, conosciuto anche come metano. E qua abbiamo al completo la nostra famiglia degli idrocarburi. Vi sembrano minacciosi? Tra tutti gli idrocarburi, l'anidride carbonica? A me non lo sembrano e non li ho voluti rappresentare così. Perché non sono cattivi. L'anidride carbonica, ad esempio, se non ci fosse stata lei, non ci sarebbero forme di vita su questo pianeta. È solo che li sentiamo sempre tirare in ballo sia l'anidride carbonica che i combustibili fossili quando si parla di cambiamento climatico. E in questi ultimi decenni stiamo avendo un po' di problemi, infatti, con il clima. E cosa succede? L'anidride carbonica fa un po' come una copertina per il nostro pianeta. Perché è un gas di quelli che vengono chiamati gas serra. E quindi ha la proprietà di poter intrattenere, di poter trattenere il calore del sole all'interno dell'atmosfera, facendolo rimbalzare. Ed è un bene, perché altrimenti nel nostro pianeta farebbe veramente tanto freddo. Però qual è il problema? Il problema è che deve stare in un certo equilibrio. Non ce ne deve essere né troppa né troppo poca. E in questo momento abbiamo il problema che ce n'è un po' troppa. Pensate che la prima ad aver fatto degli studi di correlazione tra l'anidride carbonica e il clima è stata una scienziata che si chiama Eunice Foot. E l'ha scoperto nel 1856. Il punto è che la sua scoperta è stata un po' dimenticata. Non è stata presa sul serio. Tant'è che noi riscopriamo la sua scoperta dopo un secolo e mezzo che lei l'ha fatta. E questo perché noi l'11 febbraio, come diceva prima Chiara, andremo a festeggiare la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza. Perché è importante una partecipazione femminile all'interno della scienza? Un protagonismo femminile? Altrimenti non prendiamo sul serio anche quelle ricerche molto valide. Io non sono personalmente una scienziata, sono appassionata di scienza e ho scritto questo libro perché mi sembrava molto importante poter parlare di cambiamento climatico e di scienza all'interno di un libro, ma per la correttetta scientifica ci ha pensato Elisa Palazzi, che è una scienziata ed è una scienziata del clima, quindi studia il clima di certe zone, quindi la pioggia, la temperatura in un lasso di tempo abbastanza largo e in più fa anche la divulgatrice, quindi divulga anche quello che studia le persone che non sono del suo settore. Però ritornandosi i nostri passi. Perché c'è sempre più anidride carbonica nell'aria? Allora, ricordate i carbonietti che sono andati a dormire? Noi prendiamo i carbonietti quelli che sono andati a dormire, quindi petrolio, carbone, metano, diciamo che sono un paio di secoli che ci impegniamo a farlo, quindi li estraiamo dalle profondità della Terra e li andiamo ad utilizzare per creare dell'energia, un'energia che ci permette di fare tante cose fantastiche come riscaldare le nostre case, le nostre scuole o muoverci da una parte all'altra del pianeta, produrre un sacco di oggetti utilissimi. Il punto è che risvegliandoli cosa succede? Li ritrasformiamo nell'anidride carbonica e quindi andiamo a rimettere in aria quell'anidride carbonica che c'era milioni e milioni di anni fa, quando sulla Terra c'erano altri tipi di forme di vita e addirittura non ce ne erano affatto. Poi per fortuna oggi abbiamo trovato altre forme per produrre energia senza utilizzare combustibili fossili e ci dobbiamo impegnare per abbandonare mano a mano i combustibili fossili e lasciare dormire in pace gli idrocarburi. dunque, i governi si devono impegnare, le aziende si devono impegnare ma anche noi nel nostro piccolo ci dobbiamo impegnare a fare la nostra parte per emettere meno anidride carbonica. Allora adesso chiederei alla chat, di nuovo, cosa fate voi, cosa potreste fare voi nel vostro piccolo per emettere meno anidride carbonica? Non vale dire che non si può più respirare. Allora ad esempio io una cosa che faccio, adesso siamo in inverno quindi tendo a fare freddo e invece di alzare il termostato tendo a mettermi un maglione in più, così non si fa lavorare di più la caldaia, la caldaia va a metano e quindi si brucia meno metano per produrre calore. Queste piccole cose sono, non grandissimi piani. Oppure un'altra cosa è ad esempio spegnere la luce quando si va via dalla stanza, sprecare di meno. Aspettiamo ancora che arrivino dei commenti. Ok, c'è un commento che dice meno auto e più bici. Perfetto, tant'è che la bicicletta è un ottimo mezzo per muoversi, soprattutto in città dove alla fine tra tutto ci si mette lo stesso tempo nei percorsi inferiori ai 4 km. C'è qualcun altro che dice per ridurre le emissioni di anidride carbonica potremmo usare meno bombolette spray. Allora, usare di meno si riduce sempre l'anidride carbonica, le bombolette spray poi hanno anche altri problemi di altri gas contenuti. Spegnere la macchina quando non è necessario e direi anche non prendere la macchina quando non è necessario. Andare di più a piedi, muoversi a piedi o in bici. Perfetto. Utilizzare mezzi pubblici ed elettrici. Ok, sì sì sì, sulla mobilità ci sono molti che si impegnano. Abbassare il calore dei termosifoni nelle case e nelle scuole. Meno carne e più verdure, esattamente, questo è molto importante. Soprattutto la carne bovina ha un consumo di anidride carbonica che è enorme rispetto anche alle altre carni. Ok, abbiamo avuto diverse idee. Ora, che ne dite se continuiamo ad andare avanti con la nostra costruzione? Qua vedo che, grosso modo, la pallina si è seccata. Non perfettamente, ma ci accontentiamo, tanto ho già le dita nere. Non credo che peggiorerò la mia situazione. Ah, qua ci sono altri messaggi dalle chat che sono arrivate dopo, che spegnere l'auto quando si fermi nel traffico, abbattere gli alberi... Non abbattere gli alberi, esattamente. Usare le bici per spostarsi, riciclare, fare la raccolta differenziata, produrre meno spazzatura, fare meno viaggi e costruire meno fabbriche. Diciamo che, se si consuma di meno e meglio, va sempre bene per abbattere le nostre emissioni. E anche per tutti gli altri problemi che ci sono, dalle microplastiche, altri tipi di inquinamento. Però, rimanendo specifici, nell'anidride carbonica, tutto quello che avete detto, grosso modo, è corretto. E anche non abbattere gli alberi va molto bene, perché gli alberi, assorbendo l'anidride carbonica, tolgono quella nell'aria in eccesso. E la conservano per lunghissimo tempo. Dunque, andiamo avanti con il nostro laboratorio. Qui abbiamo una pallina nera, e noi oggi andiamo a costruire anidride carbonica. Quindi, iniziamo dalle ali. Noi qua abbiamo un cartoncino rosso. Andiamo a disegnare un cerchietto un po' più piccolo del diametro della pallina. Non è così importante che sia regolare, ma, se volete, potete usare anche qualcosa di circolare per essere più precisi, però non è richiesto. Una volta disegnato un cerchio, siccome dobbiamo fare due alette di ossigeno, possiamo, ritagliamo qua, sprechiamo meno foglia. Ora, tagliamo in due il cartoncino, in maniera che, se ritagliamo il nostro cerchietto, ce ne vengono fuori due. E voilà. Poi, dopo le alette, possiamo passare alle zampe. Noi usiamo questi scovolini qua per i lavoretti, che sono fenomenali per fare le zampette, anche per le maschere di Halloween, per fare le zampette di ragno. Dobbiamo ritagliare diversi pezzi. Ne ritagliamo quattro da quattro centimetri. Non è importante essere precisi al millimetro. Può essere anche una misura un po' più approssimativa. Dunque, quattro pezzetti di scovolino da quattro. Ok. E quattro pezzetti da sei. Prendiamo un altro scovolino. Ok. Abbiamo detto che queste sono le nostre zampette di carbonetto. Dunque, queste più corte, quelle da quattro centimetri, sono le dita nel carbonetto. Le pieghiamo a metà. Facciamo delle piccole U. E voilà. Le abbiamo piegate tutte. Poi ne prendiamo due. Le mettiamo così vicine. Prendiamo uno di quelli lunghi. Facciamo una piccola U verso il fondo. Così. Un piccolo uncino. Ci infiliamo qua le dita dove sono piegate. Isabella, ci sono bambini che ci stanno chiedendo nella chat. Se li fai rivedere un attimo sia i cerchietti che hai fatto, sia le varie zampette per capire le dimensioni. Certo. Almeno stanno facendo tutti, sono qui che lavorano, quindi hanno bisogno un attimo di sapere bene, perché vogliono fare con precisione, ci dicono i loro personaggi. Perfetto. Un ripasso, ok? Delle cose da fare. Ok. Allora. Riprendiamo dalle alette. Allora, le alette, noi abbiamo questo cartoncino che è molto grosso, quindi andiamo a tagliare una parte più piccola, così è più facile da piegare. Così è un po' più semplice da gestire. In una metà ci disegniamo un cerchio, che deve essere un po' più piccolo della sfera che abbiamo dipinto di nero prima. Ok. Poi pieghiamo il cartoncino. Ok. E così facendo, una volta che noi ritagliamo un cerchietto da una parte, ce ne vengono fuori due. Perfetto. Lo sto facendo anch'io, così almeno vi seguiamo anche noi. Lo facciamo anche noi. Perfetto. Uguali uno identico all'altro. Tagliamo. E voilà. Perfetto. E qui abbiamo le nostre ali. Vi dirò che sono di materiali diversi rispetto a queste qua, che sono di feltro, ma perché avevo bisogno di cucirci dentro i magneti che permettono di fare questo effetto, di fare questo effetto qua. Che spesso i bambini durante i laboratori con le classi me lo chiedono. Come mai stanno attaccate le ali? Si attaccano e si staccano lì. Esatto. Qua è una dimostrazione perfetta del carbonio e dell'ossigeno. Poi, invece, ripassando agli scovolini per le zampette, dobbiamo fare quattro scovolini della lunghezza di sei centimetri e quattro scovolini della lunghezza di quattro centimetri. Benissimo. Quindi, riassumendo, abbiamo fatto due alette, più o meno di che dimensione? Allora, dipende dalla sfera di partenza. Queste qua sono leggermente… Ok, proporzionate, benissimo, proporzionate alla pallina che abbiamo e poi abbiamo fatto le zampette, giusto? Esatto, e poi abbiamo fatto le zampette. Quindi, una volta ritagliati i vari scovolini di quelle dimensioni lì… Bene. E non so se volete scriverlo in sovraimpressione, così rimane. Ok. Quelli più corti, quindi quelli da quattro centimetri, li andiamo a piegare a metà, facendo queste piccole U. Benissimo. Quelli più lunghi, due più lunghi, facciamo un piccolo uncino in fondo, dove andiamo a metterci questi che saranno le nostre dita. Quindi ci infiliamo l'uncino qua e poi ruotiamo, perché il filetto di ferro permette poi di fermare le dita. E qua abbiamo una bella zampetta di carbonietto. Ma che carino, è come quelle che vedo che hanno i personaggi già costruiti. Esatto, se dovessero un po' ballare queste qua, si può fare questo trucchetto, che si dà un giro e così stanno perfettamente ferme. Ok. Si dà un giro le dita. Dobbiamo ripetere questa operazione su tutte le zampette. Esatto. Giusto? Benissimo. Su due zampette, qua con le dita. Poi dopo le altre due, le altre due da sei centimetri, sono i piedini. Quindi adesso vi faccio vedere. Quindi qua abbiamo le due zampettine, che posizioniamo qua. E poi abbiamo questi altri da sei centimetri, che saranno le gambette. Quindi, andiamo a fare la piega del ginocchio e la piega del piede. E qua riconosciamo già una zampetta. Poi dopo queste pieghe si possono riprendere anche dopo, perché il filo di ferro che è all'interno dello scovolino è modellabile molto facilmente. Quindi, un piedino, se volete farli uguali potete piegarli insieme, così vi vengono due ginocchia e due piedini uguali. E adesso qua abbiamo tutti gli elementi, dobbiamo solo andare ad appiccicare le varie cose. Dunque, io inizierei con gli occhi. Abbiamo questi occhietti mobili qua, che sono gli stessi poi che ho usato per loro. Alcuni di questi occhietti hanno semplicemente la pellicola dietro, che si può togliere, e sono subito adesivi. Se non dovessero avere la pellicola dietro e non hanno l'adesivo, non è un problema, perché noi abbiamo il biadesivo. E quindi, se non sono adesivi loro, li rendiamo adesivi noi. Io ho un po' di colla, va bene lo stesso? Va benissimo anche la colla. Perfetto. Un occhietto. Quindi facciamo piano piano, perché ci sono tantissimi bambini che ci stanno seguendo e che ci scrivono e che sono tutti presi dalla costruzione di questi fantastici carbonietti. Perché un po' ci vuole a fare tutte le zampette. Eh sì, infatti è una parte un po' laboriosa. Io costruisco carbonietti un giorno sì, un giorno no, quindi ormai vado come un treno. Allora, quindi abbiamo costruito le alette, poi abbiamo preso le zampette e le abbiamo ritagliate, ok. Poi ci abbiamo fatto anche i piedini, assemblando, giusto, quelle un po' più lunghe insieme a quelle un po' più corte. Abbiamo fatto le mani e le zampette dietro anche, giusto? Qui in regia mi dicono che loro sono ancora a questo punto, figurati un po'. E poi tu sei riuscita anche già a metterci gli occhietti. Questo carbonietto è veramente carino. E mi ricorda tanto anche il nostro protagonista, che lo vediamo anche qui dalla copertina del libro. Eh sì. Dalle tue illustrazioni, delle tue bellissime illustrazioni. Grazie mille. Eccoli qua. Ci stanno facendo vedere dalla regia anche tutti i disegni che ci sono nel tuo libro, che vi ricordo si chiama Il girotondo del carbonio, un viaggio nella storia per capire il cambiamento climatico. È un libro davvero carino e divertente che ci fa affrontare questo argomento, anche difficile, in maniera molto giocosa. Quindi è un'ottima occasione per imparare divertendosi. E io qui vedo i bellissimi carbonietti disegnati che, beh, in effetti assomigliano proprio a quelli che stiamo costruendo. Perché la pallina di polistirolo nera è un po' il corpo, poi vedo le alette rosse come due cerchietti che abbiamo ritagliato dal carboncino. E poi queste zampette, guardate, guardate un po', bambini. Si vedono le zampe con le manine, come ci ha fatto vedere Isabella, che stava costruendo insieme a noi. E poi invece, eccole qua, Isabella, grazie, facceli rivedere. Molto carini, molto, molto carini. E poi appunto si vedono anche, nel disegno si vedevano anche le zampe, quelle dietro, con i piedini, eccoli lì. Quindi con lo scovolino più lungo, piegato, per fare proprio il piedino del carbonio. Esatto. Qui ci sono tanti carbonietti, vedo. Qui siamo proprio all'inizio, all'inizio della nostra storia. Quando c'erano solo i vulcani e non c'era nessuna forma di vita, e pensate, non c'era nemmeno l'ossigeno nell'aria, perché l'ossigeno viene tutto dalla separazione dell'anidride carbonica dalle sue ali. Quindi come dici tu nella storia, che leggo anche qui in questa pagina del libro, l'unica giostra per il carbonio erano i vulcani, quindi loro si divertivano con i vulcani. Esatto. E poi mano a mano vanno a costruire un parco giochi sempre con più attrazioni. Eh già, è vero, è vero. Un passo alla volta, lo vediamo anche nella storia. Poi il carbonio si sposta per andare a giocare, appunto, con le mirie di forme di vita che nel frattempo, insomma, si sono un po' evolute. Quindi il parco giochi, eccolo qua, vedete, come Luna Park, proprio l'hai rappresentato, davvero molto carino, molto divertente. E la terra diventa il parco giochi dei carbonietti. Quindi vediamo i nostri amici carbonietti che stiamo costruendo insieme, li vediamo scorrazzare, ok, e correre e divertirsi sulla terra insieme anche a dinosauri. Questo qua mi sembra un dinosauro gigantesco, se non mi sbaglio. Eh sì, è un brontosauro. Un brontosauro. E pensate che la pianta che gli ho messo di fianco, quell'albero, è un albero che ancora esiste. Anche Darwin l'ha chiamato il fossile vivente, perché è un albero che è uguale a se stesso da quando c'erano ancora i dinosauri, che è il ginkgo biloba. Ecco, che nome difficile, però è molto bello, ci racconti anche le curiosità che ci sono dietro alle illustrazioni di questo libro fantastico, grazie. Divertente anche scoprire quello che dà ispirazione anche a chi scrive o a chi disegna i libri, quindi grazie anche per queste piccole curiosità che ci stai raccontando. Sicuratevi. E questo qua è la foglia del ginkgo, che forse avete visto da qualche parte, perché è una foglia molto particolare. Eh sì, è bellissima. Che è uno dei primi prototipi di foglia della natura, perché lì era ancora il tempo delle felci, degli inquisenti. E vedo che qui i nostri amici carbonietti sono qui che stanno prendendo le ali e se le stanno mettendo, proprio le stanno indossando, lo vedo sul libro. Le stanno lasciando in realtà, perché è proprio la fotosintesi. Sì, esatto, è giusto, è vero, è vero. È proprio la fotosintesi, perché atterrano sulla foglia, lasciano le loro belle ali di ossigeno che prendono il volo, se ne vanno via, e loro scivolano all'interno della foglia e iniziano a fare parte della pianta. Quindi si legano fra di loro e diventano una cosa che piace, penso a tutti, che è lo zucchero. Wow, eh sì. Senti, visto che appunto i bambini stanno tutti lavorando con grande impegno, ci faresti rivedere per favore come si fanno a piegare le zampette, per creare sia quelle davanti che quelle dietro? Allora, per quelle dietro, mi faccio vedere subito. Perfetto. Allora, ho raddrizzato lo scovolino, quindi facciamo la prima piega, che è il ginocchio del carbonetto, e la seconda piega, qui magari che c'è un po' più di contrasto, e la seconda piega che è il piedino del carbonetto. Perfetto. Perfetto. Queste quindi sono le zampette che andremo a incollare o attaccare, a seconda di quello che abbiamo a disposizione, come zampette dietro. Esatto. Mentre l'altra, ho perso il righello, forse qua sotto, eccolo qua. Mentre l'altra, adesso produco altre dita. Ok, le facciamo un po' più lunghe, per la produzione delle zampette davanti, quindi le manine, con i pezzi più piccoli facciamo delle U, quindi uno e due. Postati un pochino più di lato che così vediamo anche meglio. Eccolo, perfetto, sembra proprio una piccola mano, sì? Quindi abbiamo queste U che poi andremo a sovrapporre così. Sì. Il pezzo lungo, facciamo un piccolo uncino in fondo. Spero si veda. Sì, sì, perfetto. E qui andiamo a metterci... Voilà. Ci abbiamo infilato le nostre U che andranno a fare le ditine. E adesso prendiamo l'uncino, lo stringiamo con le dita e facciamo qualche giro, così riusciamo a chiuderlo. Per fissare meglio le dita che, vedete che sballonciano un pochetto, le prendiamo due a due e gli facciamo fare un giro e un giro. Così stanno belle fisse. Benissimo. Ok, quante zampette che abbiamo qua sul tavolo? Una volta fatte le zampette poi le andiamo ad attaccare, giusto? Alla nostra pallina di polistirolo. Ora, non so se l'hanno già fatto, qua ci sono gli occhi anche che ho attaccato prima. Li possiamo attaccare o se hanno loro l'adesivo dietro, quindi basta spelare l'adesivo. Oppure, se non ce l'hanno, ce lo mettiamo noi, il biadesivo. O un po' di colla, dello scotch, qualsiasi cosa che si ha atto a incollare. Quindi noi abbiamo adesso il nostro carbonietto che ci guarda e aspetta di avere anche le zampette. Noi abbiamo uno stuzzicadenti che ci egevola nell'attaccare le zampette. E andiamo a fare quello stuzzicadenti, dei buchi, qua, dove pensiamo di metterci poi le varie zampette. Quindi abbiamo fatto quante zampette servono in tutto, quindi ricordiamoglielo un po' ai bambini? Sono quattro zampette, due con le manine e due con i piedini. Benissimo. E quindi adesso facciamo i buchetti per riuscire a infilare le nostre zampette fatte con gli scovolini. Noi qua abbiamo fatto il buchetto per il braccino, lo facciamo entrare e vedete che entra con abbastanza facilità e non c'è bisogno di altro perché si fissa molto bene. È vero, si fissa da solo. Quindi abbiamo inserito un braccio, ne inseriamo un altro. Beh immagino che i bambini si stiano divertendo, ma insomma questo è un lavoro bello e impegnativo per loro. Quindi un suggerimento che possiamo dare alle maestre e ai maestri e che possono poi anche fare con calma, giusto? Esatto. E completarli anche in classe, anche da soli. E poi appunto so che ci hai anche dato un po' di idee per costruire poi gli altri personaggi che poi possono farsi quando vogliono, giusto? Esatto. Non li vedremo, però appunto hanno tutte, ricordiamo ai maestri e alle maestre, che hanno tutte le istruzioni necessarie se hanno voglia e se i bambini vogliono divertirsi ancora un po' con la costruzione dei carbonietti per riuscire a fare anche tutti gli altri personaggi che vedo lì accanto a te, giusto? Esatto. Poi c'è anche la tecnica della cartapesta nelle varie infografiche che ho girato, perché la cartapesta poi è una tecnica che è fantastica, è anche abbastanza antica. Oggi inizia il carnevale, tra l'altro la cartapesta, la cartapesta con il carnevale ci va proprio bene perché anche i famosi carri di carnevale sono fatti attraverso l'uso della cartapesta. Adesso magari si usano anche altri materiali, gommapino così, però anticamente si usava solamente la cartapesta. E anche per le maschere di carnevale è una delle tecniche che si usa tutt'oggi, nonostante abbiamo un sacco di materiali diversi e innovativi, è ancora la cartapesta che si fa con la carta dei giornali usati e la colla, quindi semplicissima. Sì? Si usa tutt'oggi. Esatto, perché potrebbe essere anche un'idea per un travestimento di carnevale, perché no? Potremmo anche travestirci da carbonietti, ci facciamo due belle ali grandi in cartone, rosse, ci vestiamo tutti di nero con dei lunghi guanti neri e così siamo dei carbonietti perfetti, direi. Eh sì. Allora, qualcuno ci sta chiedendo dove si trovano tutte queste istruzioni. Allora ricordiamo a tutti che, finito il laboratorio di stamani, comunque Isabella ci ha messo a disposizione tantissime infografiche molto carine e illustrate proprio da lei, in cui ci sono tutte le spiegazioni passo passo per poter costruire sia di nuovo il carbonietto che abbiamo fatto oggi, ma, come vi diceva prima, anche per poterlo fare in cartapesta, quindi ci sono anche le istruzioni per poter fare una cosa un pochino più elaborata proprio con la cartapesta e non solo, vero Isabella? Ci hai dato anche le indicazioni poi per costruire, per chi vuole farlo, anche gli altri personaggi. Esatto. Quindi, finito il laboratorio, noi comunque metteremo a disposizione di tutti sul nostro sito la registrazione ovviamente di quello che abbiamo fatto stamani insieme, e quindi, insomma, c'è la possibilità di rivederlo con calma se, appunto, giustamente potete anche non riuscire a finirlo tutto in questa oretta che è un po' poco, insomma, per lavorare insieme e quindi troverete le registrazioni ma anche tutte le istruzioni sia per i carbonietti sia, appunto, per tutti gli altri, sia per il carbonio, insomma, che per tutti gli altri personaggi. Quindi non c'è problema, potete fare tutto anche con la massima tranquillità e quindi i bambini hanno la possibilità di poterli fare anche con più calma se stamani non riescono a finire. O anche a casa, perché no, si possono divertire, no? Un pomeriggio, insomma, in compagnia e fare i loro personaggi. Allora, riprendiamo la costruzione però del nostro laboratorio. Qui lo vediamo che c'ha solo le zampette sopra. Adesso andiamo a mettergli anche le zampette sotto con i piedini. Benissimo. Allora, andiamo a ricercare il buchetto che gli ho fatto prima. Benissimo, quindi abbiamo fatto quattro buchetti, giusto? Esatto, ci aiutiamo con tutti i cadenti. Bene. Che così... Chissà come verranno carinissimi quelli che stanno facendo i bambini. Io ne approfitto per chiedere alle maestre e maestre che ci stanno seguendo se avessero voglia di mandarci qualche immagine, qualche foto, perché no, dei personaggi che hanno costruito. Potete mandare appunto le foto a formazionechiocciolaggiunti.it oppure se avete voglia anche di farli disegnare ai vostri bambini mandateci i disegni dei carbonietti, perché insomma li pubblicheremo sul sito, li daremo a Isabella che li raccoglierà, perché insomma penso le faccia proprio piacere vedere i lavori fatti dai bambini sui personaggi del suo libro e per cui insomma mi raccomando mandateci le foto e i disegni quando li avrete finiti e li avrete fatti. Quando ho iniziato a fare i laboratori era una cosa che non avevo messo in programma, il fatto di avere i bambini che mi portassero i disegni, le loro versioni di carbonietti che è successo diverse volte, ogni volta è bellissimo. Magari ci puoi fare un nuovo libro con tutti i disegni dei bambini. Io intanto vi faccio vedere anche perché il libro me lo sto risfogliando con molto piacere, mi sto rileggendo la storia mentre voi realizzate insomma i vostri personaggi. Vedete qui che bellissime illustrazioni che ci sono, sono davvero veramente bravissime, come Isabella, sono fantastiche, ma come vi ho detto prima Isabella non solo ha disegnato questo libro ma ha anche scritto la storia, quindi insomma è proprio molto molto brava. Guardate qua quante belle immagini, ora lo sfoglio, ve lo faccio vedere piano piano. Beh direi che per festeggiare la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza non ci poteva essere occasione migliore direi, eh? Eh sì, poi come hai detto prima ha fatto la revisione scientifica di questo libro, non essendo io scienziata ed essendo editoriale scienza è una casa editrice molto seria, quindi fa revisionare i propri testi anche agli esperti, è stata proprio una scienziata del clima, una climatologa a fare la revisione, ricordiamolo, esatto, un grazie speciale anche a Lisa Palazzi, che magari ci sta sentendo e che sa appunto che Isabella sta facendo con noi e con tutti i bambini, con i tantissimi bambini che sono collegati con noi stamani mattina questo fantastico laboratorio e quindi un grazie anche a Lisa Palazzi, che è un'autrice di editoriale scienza che ci regala tanti bei libri anche lei. Quindi siamo quasi alla fine del nostro carbonietto, eccolo là, wow, quindi abbiamo la nostra pallina di polistirolo che si è trasformata. Adesso è carbonio di base, perché è solo un atomo di carbonio. Cosa gli manca per diventare un'idride carbonica? Vediamo se i bambini se lo ricordano, che cosa gli manca ancora? Eccole! Le ali di ossigeno, quindi sono altri due atomi di ossigeno, uno e due. Come gliele mettiamo? Allora qua vediamo il carbonietto che fa la breakdance, non so se lo vedete. Allora, come gliele mettiamo? Gliele mettiamo con il biadesivo, anche con la colla. Il problema è che alcuni tipi di colla ci mettono un po' ad asciugarsi e quindi col biadesivo diventa tutto un po' più immediato. Tagliamo un pezzettino di biadesivo, piccolo, 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 e ci mettiamo su un'ala, da una parte, anzi, guardate, ne tagliamo due di pezzetti. Quindi, prendiamo le forbici in mano una sola volta. Lo mettiamo uno su un'ala e uno sull'altra ala. Andiamo a togliere la pellicola di uno e qua le incolliamo così un po' divergenti una con l'altra in maniera che facciano questa sorta di otto che poi si possono vedere oltre al carbonietto. e poi qua dietro abbiamo un altro pezzetto di biadesivo. Andiamo a togliere anche qua la pellicola e glielo andiamo ad attaccare dietro. E ora il nostro carbonietto vola. Eh sì. Gli manca solo la parola perché bisogna fargli la boccuccia. Allora, io qua gliela faccio così perché ho perso il pennarello bianco ma voi dovreste averlo. Quindi basta disegnarla. Esatto, basta disegnare una bella bocca sorridente. Così abbiamo un'anidride carbonica che sorride. Che carina. Spostala un po' un pochino più dove venisse. Ora facciamo. Così la vediamo meglio. Avvicinacela un po'. Eccolo. Ecco l'anidride carbonica fatta. Quattro zampette, le sue ali, le sue lette rosse, gli occhietti e la bocca. Eh sì, la vedo ora. Sì. Fatta con il pennarello. Sbambine. Bambini. Se avete il pennarello bianco, giusto? L'avevamo chiesto. Oppure basta appunto in alternativa anche un pezzettino di carta bianca attaccato. Ci sono tanti modi. Poi ognuno può personalizzare il suo personaggio con quello che ha a disposizione. C'è anche la possibilità di fare un piccolo sorriso così ritagliato nel cartoncino. Esatto. Si mette sempre proprio adesivo dietro. Possiamo farlo anche così. Questo è ottimo per fare il personaggio di metano perché avendo la plastichetta non si può disegnare sopra con il pennarello. Ve lo giuro perché ci ho provato fallendo miseramente quindi ho capito che attaccandoci questo bel pezzettino di cartone veniva un bel sorriso che si vedeva per bene e anche la nostra indirida carbonica può sorridere ancora di più e voilà. Ecco fatto. Allora Isabella mentre i bambini finiscono di asseguare che bella bucchetta che lei fa che lei ha fatto allora mentre i bambini finiscono di asseguare i loro personaggi ce li fai rivedere tutti con l'occasione già che ci siamo perché vedo che sono bellissimi e quindi magari gli viene voglia anche di costruire gli altri. Vi ricordo che da stamani mattina poi metteremo a disposizione sul nostro sito sia la registrazione del laboratorio sia tutte le istruzioni scritte e disegnate da Isabella proprio per costruire anche tutti gli altri personaggi quindi se ce li fai vedere ce li presenti di nuovo tutti allora ve li avvicino ve li avvicino anche con allora facciamo anche con gli effetti speciali lui è carbonio di base e è quello che abbiamo costruito insieme esatto è un unico questo è gigantesco è un unico atomo di carbonio che se mette le ali diventa anidride carbonica perché sono due atomi di ossigeno che si attaccano a lui e si trasforma poi abbiamo tutta la famiglia degli idrocarburi quindi che anticamente erano un'idride carbonica ma poi andando a dormire sottoterra con milioni di anni di tempo si sono trasformati in petrolio eccolo io lo faccio girare così si vede anche bene col muro bianco che qua è una goccia nera e questo qua è fatto con una un'argilla particolare ma io questo qua siccome si è fatto una vacanza l'avevo anche rifatto con la carta pesta e vengono proprio uguali eh sì questo è il suo cugino in carta pesta e viene è bello perché è leggerissimo è anche molto resistente sì ricordiamo che Isabella ci dà anche le istruzioni per farlo con la carta pesta quindi ognuno si può sbizzarrire nel modo che ritiene più opportuno e che riesce a fare esatto e quindi abbiamo petrolio abbiamo detto che è stato un gigantesco dinosauro poi abbiamo qua carbone carbone è stata una lussureggiante foresta preistorica e qui vediamo che tutto irregolare perché è molto simile al carbone quello che c'è all'interno dei camminetti quando finisce la legna di ardere ma questo qua è carbone fossile quindi quello che si è formato dal legno antichissimo e poi qui abbiamo metano metano lo vediamo qua tutto bello aereo perché è un gas anche lui ed è appunto il gas metano che è un gas naturale ed è stata la puzzetta di un antico batterio quindi hanno tutte origini antichissime di idrocarburi e se ne stanno là sottoterra a dormire noi l'importante è che non li estraiamo da sottoterra e non li utilizziamo per fare energia perché se no si ritrasformano tutti in anidride carbonica e ce n'è già tanta di anidride carbonica qua sulla terra ed essendo un gas serra se ce n'è troppa fa troppo caldo e noi altri animali le piante non sono abituati a queste temperature a questo clima e quindi potremo avere dei disagi abbastanza grossi per quello che dobbiamo fare anche noi la nostra parte insieme ovviamente a governi aziende e tutto per emettere meno anidride carbonica e far dormire questi qua poverini i nostri amici idrocarburi che sono andati per non farsi disturbare sottoterra e li abbiamo svegliati bene quindi insomma ci hai raccontato una storia una favola e attraverso questa storia beh ci hai anche dato un bel pezzettino di cose su cui riflettere e anche da imparare quindi nel tuo libro in particolare poi tutto viene spiegato in maniera molto giocosa divertente molto semplice quindi anche argomenti così complessi possiamo vedere che appunto possono essere raccontati anche a misura di bambino come hai fatto tu allora se non c'è nient'altro Isabella direi che siamo arrivati al termine di questo nostro laboratorio mi raccomando i lavoretti a formazione chiacciola giunti esatto mi raccomando bambine bambini aspettiamo tutti i vostri lavori finiteli con tutta la calma che vi serve prendetevi il vostro tempo e se volete divertitevi insieme alle maestre maestri anche a realizzare a costruire tutti gli altri personaggi beh io non posso che dire un grazie gigante a Isabella per questo bellissimo laboratorio per essere stata con noi quest'ora proprio perché appunto ci hai regalato diciamo quest'ora per stare insieme io vi ricordo il suo libro di cui appunto è autrice e illustratrice il girotondo del carbonio un grazie speciale alle maestre e alle maestri che sono stati con noi e ovviamente a tutte le bambine e a tutti i bambini e vi voglio semplicemente salutare ricordandovi l'11 febbraio che è la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza quindi buona festa a tutti e anche buon carnevale perché perché no tutti travestiti da carbonietti d'accordo grazie a tutti quei bambini anche che salutano qua nella chat alle maestre i bimbi della quinta B e della quinta A di Ascania sì vedo l'ultima domanda il pennarello bianco a cosa serve serviva per fare disegnare la bocca la bocca del carbonietto sulla pallina nera ma se non avete il pennarello bianco come ci ha fatto vedere Isabella un pochino si vede se non avete il pennarello bianco basta semplicemente un pezzettino di carta o di cartoncino bianco ad attaccare come avete fatto per le alette quindi eccolo qua col cartoncino grazie ancora grazie a tutti buon lavoro grazie a tutti e buona giornata grazie Isabella grazie ancora per questo bel laboratorio ciao bambine ciao bambini ciao 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 ciao